La partita è stata una buona gara da parte nostra, anche se abbiamo perso, a mio parere. Contro una squadra che secondo me, dopo il Maribor, è per me la più forte di questa campionata, è una delle più forti. Noi nelle sei sfide che abbiamo fatto abbiamo sempre fatto delle gare in perfetto equilibrio che poi si sono decise quasi sempre su episodi. Ieri è anche stata una partita abbastanza equilibrata, ha avuto la meglio il Rudar, però abbiamo fatto secondo me una buona gara. C'è da dire che la bravura del Rudar ieri è stata quella di produrre tanti calci piazzati. Hanno fatto tanti calcio d'angoli, corner e anche molte punizioni dal limite e hanno sfruttato la loro struttura, perché è una squadra che ha molta struttura fisica e quindi ci hanno messo in difficoltà. Però a parte questo, sotto l'aspetto del gioco, noi abbiamo fatto bene quanto loro. È stato un peccato non pareggiare almeno la partita, però va anche dato merito all'avversario che è un avversario di tutto rispetto. Il Copa Abbiamo il Copa, noi tentiamo a vincere questa partita perché vogliamo consolidare questo quarto posto innanzitutto. Poi perché ci serve anche moralmente fare una buona gara contro il Copa che ci dà forza in vista della finale di Coppa Svobre. Grazie.